Let's play di Crash Bandicoot XS completamente in italiano Sono Frank Roots e adesso vi farò vedere questo livello Questo livello si ispira a quello che sta in Crash Bandicoot 2 Aspetta, è veramente, si ispira, ho detto, si ispira a questo livello, a quello di Crash Bandicoot 2 Quello va sempre sul ghiaccio Veramente ci stanno i stessi nemici, veramente, tra alcuni no, non sono gli stessi Comunque qua è una parte che si ispira dove stavano i Crash della Nauridog Perché come se ci ho fatto caso, il primo Crash era ben più ben conosciuto all'epoca Veramente, questo livello, questo livello veramente è basato su, 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 il ghiaccio Veramente, non avanti perché poi ci stanno pure le altre parti di questo livello che non saranno proprio così facili Che volta posso pure sbagliare, raga Questo deve essere anche il gioco che forse c'era la Gianluia Ah, sì E comunque là è un Nitro che io ho preso, veramente, ho sbagliato Ehm, non ho avanti Ehm, non ho avanti Ehm, non ho avanti Ehm, non ho avanti Dovevevo rallentare un po' Doveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve se è il secondo, se è questo. Ah, e poi fra un po' forse devo battere anche Dingo, dai. Non c'è bisogno di prendere tutte queste scatole, vabbè, saltiamole tutte quante. Io le faccio solo per andare avanti perché intanto voglio solo finire il gioco così. Ora, vabbè, quella scatola non riuscite a prendere, ma ci sta un gruppo di N.A. di D.N.O.T. Quella scatola di merda che ci facciamo. Vabbè, diciamo, ci sono, veramente, questo, veramente sono alcune parti che non ci sono a quello che sta al 2, che non c'è quegli segmenti, diciamo al 2 cambia che c'è in così, in 2D, e voglio dire, in visuale piatta, in visuale in 3D diventa. Cioè, saltiamo qua, veramente sbaglia un'altra volta. Ehm, lo devo riluovare bene. Ehm, ciao a tutti da Frenz, commentate, votate il video e iscrivetevi al mio canale. Ehm, ciao a tutti, alla prossima, anche la prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.